e buongiorno ragazze anche oggi è una giornata calda oggi puliamo qualcosina anche oggi anche se fa caldo però bisogna che facciamo una cosa un po alla volta ecco allora prima di tutto devo svuotare la vostra iglia so che avevo detto che la vostra iglia non lo uso però con questo caldo qua ragazze e ieri sera ho detto no non ciò posso fare ho fatto partire la vostra iglia adesso devo svuotare scusate ma prima di incominciare devo preparare devo organizzarmi per il pranzo questo qua non si apre facilmente alla fine devo sempre inflare qualcosa questo qua è della marca 5 e 5 ci si chiama però si non si apre facilmente tengo il burro sì se trovate di un'altra marca meglio ecco perché questo guardate adesso lo chiudo poi per aprirlo già mi rompo le unghie ecco vabbè adesso lo ho aperto però faccio fatica ad aprirlo questo no A me piacciono moltissimo queste qua, queste maratole qua di bormioli, questi sono buoni. Quindi grazie per la guardia e a mettere la gara e a mettere una gara. Due lo in, sullo e sattori, les vier con dimmatriar. A presto! A presto. Ora facciamo la città Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Alvare Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info In questa scatola che è più grande ho pensato di mettere tutte le cose della spazzola che ho comprato Vabbè anche qua se non ci sta faccio lo stesso, facciamo così Dopo lo porto in bagno questo qua E questo adesso lo vediamo Perché a me non piace tenere le scatole in casa, ecco Preferisco buttarle via Se mai questo qua lo tengo Anche se questo qua lo posso buttare via Volendo ecco Però la tengo non si sa mai E la scatola la butto via Vedete qua Qua tengo a secchio Qua ci sono le borse praticamente Sono le borse in cotone che Se non so se vado in viaggio Metto le scarpe lì dentro Ed è comodo Questo qua Lo devo lavare Perché Questi sono Sono i bastoncini che li tengo Sapete per le tende Ecco Questo qua trovo un altro spazio Questo qua Lo posso anche buttare via Perché a me non mi serve Però lo porto giù in garage Non si sa mai se serve lì Diamo una pulitina qua Perché anche qua è tutto sporco Guardate E anche qua Facciamo un po' di cosina Adesso puliamo tutto qua Adesso puliamo tutto qua Mi sono preparata un po' d'acqua Con un po' d'ammonieca Niente Adesso Adesso Do una pulita qua D'acqua 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 Da mettere secchio E poi voglio mettere quella scatola lì Adesso vediamo come organizzarsi qua Allora Allora qua praticamente D'acqua 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info L'unica cosa che adesso non so dove mettere queste cose qua, sarebbe ideale appenderle qua, ecco, ho qua, ah, perché se no devo lasciarlo così. Sarebbe ideale di mettere qualcosa qua, tipo come questo, però questo non mi va bene perché è troppo largo. Guardate, vedete? Questo qua cade giù. Ci vorrebbe qualcosa qua, secondo me. Così li posso appendere e sono più comoda. Allora, poi devo mettere a posto tutte queste cose qua, tutti i straccetti che io le ho lovate, adesso li metto a posto. Allora, poi devo mettere 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 a posto. I tappeti li porto qui sopra, i tappeti li tengo qui sopra, un bagno. Ora dovrei mettere a posto anche qua, alcune cose le dovrei anche buttare via, adesso guardiamo, c'è tipo qua, i profumi qua non ci stanno, io ho pensato di metterli, ho pensato tutti i profumi, di metterli qui dentro, adesso vediamo come viene. Posso rimasciare un po' di cosi? Posso mettere anche altre cose che lo uso, tipo queste qua, sono indietro, ci posso mettere un po' di cosi? Questa è un po' di cosi? No? No? Questa? Che vuole non parlare. Questa. Questa è un po' di cilindri. Questa è un po' di sifere un po' di ciò. Questa è un po' di cilindri. Questa è un po' di cosi. Allora, forse mi ci vuole una scatola anche per le creme, forse non ho un'altra soluzione, ragazzi, questo qua, mettiamo tutte le cose, i trucchi qui dentro, vedete che ce l'ho ancora di trucchi qua, mettiamo tutte qua, forse è così meglio, sono quelli che uso, uso meno, praticamente non li uso neanche qua, allora, così qua ci lascio tutte le creme, le creme le maschere le lasciamo qua, facciamo così, anche le litre, non lo mettiamo qua, questo qua l'ho avuto via, è arrivato ora di sbarciarsi. ora posso mettere dentro anche, no, guarda, questo qua l'ho tempo fuori. anche questo che ho, però è troppo scuro per me, vedete? non lo uso, butto via anche questo. questi qua li teniamo qua. allora, ragazzi, qua ci ho messo tutte le creme praticamente, le creme e le maschere, qua ci ho messo i trucchi, quelli che non li uso praticamente, perché se li uso poco e niente, li lascio qua. poi dopo un'altra scatola ci ho messo i profumi, poi dopo ci ho messo anche una cosa tipo questa, tipo l'olio, le corse, queste cosine qua, le ho messe qua. qua c'ho un'altra scatola con la spazzola elastici per i capelli e basta. adesso metto tutto dentro, questi qua li butto via, questi qua anche perché li uso. così abbiamo fatto anche un po' di spazio. c'ha qua ad esempio coltorio, soluzione per le lenti, le lascio qua, che sono più comoda. ecco così già un po' più in ordine. qua c'ho la piastra, la piastra, il forno, che li lascio sempre qua. scusate. e niente. eccomi qua ragazze, noi abbiamo già mangiato. adesso lavo i piatti e poi mi preparo per andare a lavorare. e se non cambiano i miei orari di lavoro, ci vediamo domani, ciao ciao! ciao ciao! il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Teado di tashe A presto. 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 A presto.